Nella prima metà dell'Ottocento l'Egitto era frequentemente accostato all'Etruria e i musei erano spesso misti di antichità egizie ed etrusche in quanto civiltà del mistero. Per Ariodante e Fabretti il discorso sarà assai diverso. Negli anni in cui Ernesto Schiaparelli in Piemonte ed Orazio Marucchi a Roma venivano alla luce, Fabretti prendeva la via di Torino, meta preferita di tanti esuli politici di quel momento, dove avrebbe radicato la sua feconda attività di studioso fino alla fine dei suoi giorni. Eminente figura di filologo ed archeologo, sottolineo l'unione di queste due personalità, e gli tenne in qualche modo a battesimo la nascente esitologia italiana. Lui, oramai troppo avanti negli anni, è forse anche troppo serio da quello che abbiamo appena sentito, per volere aver parte in una disciplina ancora dai contorni incerti. Ma mettendo generosamente al suo servizio la straordinaria esperienza maturata nelle ricerche sulla storia della penisola italiana, che lo reggero celebre e diedero una nuova impostazione negli istituti segnati dalla sua presenza. A cominciare dal Museo di Antichità Egizie, dove con Fabretti si fece il passaggio dalla collezione antiquaria al Museo archeologico. Fabretti giunse al Museo Egizio come coadiutore, secondo assistente sarebbe, essendo primo assistente Pier Camillo Orcurti, quando esso era ancora governato da Francesco Barucchi. Questi aveva avuto un interesse per l'Egitto soprattutto in diretto, in qualità di storico, senza quindi applicarsi allo studio dei monumenti avuti in custodia, ma ne parlava attraverso lo studio delle fonti classiche. Quando il Barucchi si ritirò in quiescenza nel 1858, la direzione del Museo Egizio fu affidata a Pier Camillo Orcurti, di cui Fabretti divenne primo assistente, mentre Francesco Rossi era collaboratore volontario. l'Orcurti aveva già fatto uscire a stampa, subito dopo la costruzione dell'Ala Nuova del Palazzo verso Piazza Carignano e la riunione del Museo di Antichità e della Sezione Egizia nel 1832, un catalogo illustrato dei monumenti egizi del Regio Museo di Antichità nel 1834, che contiene essenzialmente un inventario della collezione. Dal 1861 al 1870, anno della morte, egli tenne corsi di antichità egizia all'Università di Torino, mentre Fabretti ebbe nel 1860 la cattedra di archeologia, nella stessa università aperta per lui, come abbiamo appena sentito, della quale il Museo Egizio continuava ad essere un'emanazione, un'emanazione dell'università, voglio dire, ed entrò all'Accademia delle Scienze quale socio nazionale. Un anno dopo che vi era stato accolto come socio corrispondente Giuseppe Ernest Renan, noto agli orientalisti come lo scopritore di Biblo, ciò che stava quasi per avvenire, e che scambiò un paio di lettere con Fabretti. Questi, pur avendo un percorso scientifico simile a quello di Richard Lepsius, più o meno le vite si svolgono in periodi paralleli, almeno per quanto concerne le iscrizioni umbre, osche, detrusche, Lepsius era venuto in Italia per studiare appunto le iscrizioni umbre, a differenza, le tavole augubine, voglio dire, a differenza di quello, a differenza di Lepsius, non tentò mai il passo verso l'egittologia, lasciandone la cura ad altri collaboratori. E di questi devo accennare allora, perché collaborò strettamente con lui, a Francesco Rossi, nato a Torino nel 1827, che aveva una decina d'anni meno di Fabretti e lo aveva forse già incontrato nel circolo popolare, almeno il suo nome risulta presente. Egli, prima di laurearsi in filosofia a Torino nel 1854, aveva seguito brevemente a Roma l'insegnamento del Barnabita Luigi Maria Ungarelli, nato a Bologna nel 1779 e morto a Roma nel 1845, che era stato in contatto con Ippolito Rosellini, Pisa 1800-1843, allievo e compagno di Champollion, da cui appunto aveva avuto una trasmissione dei primi rudimenti di lettura dei geroglifici. Il suo interesse di Rossi, principalmente filologico, per i documenti scritti posseduti dal Museo Egizio di tutte le epoche, inclusi i manoscritti copti, doveva diventare lo scopo primario della sua attività, sì che ci fu sicuramente una buona intesa tra lui e Fabretti. Nel 1865 egli divenne assistente e nel 1867 vice direttore del Museo. Nel 1864 Johannes Lieblin lo ringraziò per l'aiuto prestato nello studio di un importante papiro amministrativo. Seppur indirettamente, l'Unità d'Italia avrebbe introdotto notevoli trasformazioni anche nell'ordinamento del Museo Egizio. Terminata la fase romantica, in cui l'Egitto era stato volentieri associato all'Etruria, quali civiltà del mistero, cominciava un serio impegno scientifico, una trasformazione della quale Fabretti fu certo protagonista anche senza farlo apparire. Con l'Orcurti, Fabretti fu intensamente occupato nel trovare spazi per le collezioni del Museo Torinese che affiancavano allora all'Egizia tutte le raccolte archeologiche pervenute nel frattempo, con pezzi di origine mesopotamica donati da Paolo Emilio Botta, cipriota donati da Marcello Cerruti e punica dagli scavi che si stavano continuamente svolgendo in Sardegna. E cooperò dal 1860 all'allestimento della manica nuova dell'edificio prospicente Piazza Carignano. La differenza della visione del Fabretti risalta, ad esempio, dal modo con cui vuole esporre i papiri più importanti che li rendesse visibili dai due lati chiusi tra vettri a centro sala, un criterio che è stato ripreso solo un anno fa e solo per qualche papiro. Ciò significa che per Fabretti i materiali non erano un semplice oggetto di suggestione ma documenti di consultazione da comprendere nella loro interezza. Inoltre, Fabretti aveva un vantaggio rispetto ai suoi apprezzati collaboratori, il quale costituì peraltro un limite ai suoi interessi, che l'oggetto delle sue ricerche si situava soprattutto tra le antichità della penisola, sì che egli disponeva di un territorio, mentre per molti l'Egitto rimaneva un'entità stratta e lontana, a differenza di quanto avveniva per gli stati coloniali al cui servizio militavano anche altri italiani, tra cui i vassalli, di cui tra poco diremo. E ciò avveniva proprio mentre l'apertura del canale di Suez segnava un nuovo corso anche negli studi, benché l'Europa, compresa l'Italia, fosse mossa da drammatici eventi politici. Una lunga lista di dotti visitatori da tutto il continente è testimonianza della vivacità degli studi e dell'interesse che attraversavano il Museo Egizio di Torino come i suoi congeneri in Europa nella seconda metà del XIX secolo. Nel 1872, in seguito alla morte dell'Orcurti l'anno precedente dopo una lunga malattia, durante la quale Fabretti era stato incaricato della direzione del museo, Fabretti fu nominato direttore e ne pubblicò tosto la descrizione in il Museo di Antichità della Regia Università di Torino. Notizie raccolte ed ordinate da Rio Dante Fabretti, Torino, Stamperia Reale, 1872, con una lunga e precisa analisi della collezione egizia, ancora interessante da leggere oggi, compresi i papiri e un'attenta rassegna dei diversi contenuti e della storia pregressa, in cui si ravvisa la consulenza di Francesco Rossi. Nello stesso anno, una visita del patriota Luigi Vassalli per incarico del ministro Cesare Correnti, rilevando l'ineguatezza del museo, impartiva istruzioni per il suo rinnovamento. Già da tempo, il Rossi aveva intrapreso, con l'aiuto del paleografo olandese Willempleite, l'edizione di un volume di papiri non funerari del museo, Papiriste Tunei, lei da 1869-1876, terminata nel 76, che gli fruttò l'ammissione all'Accademia delle Scienze, dove Fabretti l'aveva preceduto fin dal 1860, diventando poi nel 1876 anche membro dell'Accademia dei Lincei. La pubblicazione di Pleiterossi destò vivo interesse in tutta l'Europa, suscitando una messe di studi e commentari. Successivamente, il Rossi redasse una grammatica dell'antica lingua egizia, Torino 1877, rifatta nel 1901, e fece uscire a stampa l'edizione di numerosi codici pococopti. Numerosi altri personaggi in quegli anni presero a frequentare il Museo di Antichità Egizie, dando il loro contributo con una collaborazione più o meno ampia, di cui si rende qui conto solo dei cultori della civiltà faraonica. Ce ne furono appunto altri per i diversi interessi di Fabretti. Dal 1872 al 1895 Rodolfo Vittorio Lanzone, nato al Cairo nel 1834, fu ispettore al Museo come per breve tempo Simeone Levi, laureato a Pisa in matematica, quindi aveva raccolto anche l'ambiente fisano di Rossellini, e nel 1873 gli fu conferito l'incarico di insegnamento di lingua e letteratura araba nell'università, pur legando il suo nome ad un famoso dizionario di mitologia egizia, Torino 1877, 1881. Il predetto Simeone Levi, nato a Carmagnola nel 1843 e ivi morto nel 1913, autore di un altrettanto famoso dizionario copto-geroglifico-ebraico, edito Torino nel 1894, l'anno della morte di Fabretti, fu con il cieco Giovanni Cminexedlo, nato a Praga nel 1828 e a Bologna nel 1896, si tratta anche in questo caso di un patriota venuto a combattere in Italia, e con Ernesto Schiaparelli, già detto, 856-1928, e Giuseppe Botti, nato a Modena nel 1858 e poi morto da Alessandria d'Egitto nel 1903, allievo del Rossi, che dal 1870 ebbe l'incarico dell'insegnamento denominato Egittologia nell'università. Lo Cminexedlo fu tosto occupato dal 1871 nel neofondato Museo archeologico di Bologna. Schiaparelli sarebbe diventato nel 1880 direttore della sezione egizia del Museo archeologico di Firenze e Botti avrebbe avuto la direzione nel 1892 del Museo Greco-Romano di Alessandria appena aperto. Allievo di Cminexedlo fu, oltre al precedato Giuseppe Botti, il Livornese Astorre Pellegrini 1844-1908 che studiò a Pisa e fu ispettore nel Museo di Artichità di Torino e Firenze dove è morto conseguendo la libera docenza in Egittologia e traducendo in italiano la religione egizia di Adolf Erman. Benché si trattasse di forze non organizzate e mosse da interessi disparati si assiste in tale passaggio di giovani studiosi nel Museo Retto d'Alfabretti e certamente con la sua benevola accoglienza alla spontanea formazione di una comunità di intenti che avrebbe potuto costituire nel tempo una scuola al passo con le scoperte che avvenivano oltre alpe negli studi pur senza contribuire progressi fondamentali della disciplina secondo un giudizio espresso da Edouard Naville. Tuttavia in quegli anni furono non solo poste le basi di una descrizione un'analitica di tutte le collezioni ma nel 1877-78 vi fu un riordino dell'esposizione delle antichità alle quali furono aggiunte le collezioni epigrafiche conservate fino al 1878 nell'università e il Museo Egizio fu allora definitivamente separato dall'università mentre il Ministero elaborava corsi pluriennali per la formazione di giovani archeologi nell'Italia appunto unificata collateralmente in Italia attraverso l'opera di un altro insigne studioso quale Domenico Comparetti socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze del 1880 e socio nazionale del 1892 si affacciava l'impulso verso una ricerca sul terreno e si intravedeva la formazione di una nuova disciplina quale la papirologia destinata non più solo allo studio dei papiri ercolanesi assegnato nel 1877 il Museo Egizio Nuovo Statuto nell'ambito dell'amministrazione dello Stato Fabretti Rossi e Lanzone diedero alle stampe a partire dal 1881 un inventario generale della collezione esistente in quel momento in diversi volumi che fu terminato nel 1888 Reggio Museo Egizio di Torino e che servì di modello anche per cataloghi simili relativi alle collezioni egizie di Bologna e di Firenze certamente non dovrete passare inosservata la venuta nel 1881 di Auguste Thomas però Parigi 1846 1916 per una missione epigrafica in Italia il quale aveva appena scoperto i testi delle piramidi e sarebbe divenuto socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze nel 1885 e socio straniero nel 1893 fin dal 1876 Fabretti era a sua volta stato eletto socio corrispondente dell'Accademia di Sanscrizione Bellettro di Parigi il legame di Fabretti con l'Accademia delle Scienze datava da molto tempo sin da quando esule e privo di mezzi si è rappresentato nel 1852 all'abate Costanzo Gazzera direttore della biblioteca universitaria con una lettera del VSE e a Luigi Cibrario ministro dell'istruzione dello Stato Sabaudo per una decina d'anni era stato consocio con l'abate Medeo Peiron 1785 1870 fino a tenere la presidenza dal 1883 al 1886 la vicepresidenza dal 1886 al 91 e la direzione della classe di scienze morali dal 1892 alla morte fu questo anche l'ultimo periodo in cui rimase salda la collaborazione tra Accademia delle Scienze e Museo delle Antichità Egizie come era stata perseguita fin dalla fondazione di questo con un concerto riflettuto dalle pubblicazioni negli atti dell'Accademia dove Fabretti evitò di occuparsi dell'Egitto lasciando padrone in questo campo il Rossi compiuti 70 anni Fabretti dal 1886 fu direttore merito del museo mentre Rossi assunse la funzione effettiva di direttore pur mantenendo l'insegnamento universitario alla morte di Fabretti il nuovo direttore Ernesto Schiaparelli nominato nel 1894 costrinse Rossi ad abbandonare il museo considerando giunto il momento in cui una sola persona dovesse assortire le diverse necessarie competenze per la sua guida e avviare un complesso intreccio di interessi tra ricerca archeologica e progetti politici nell'Ateneo torinese la successione di Fabretti nella cattedra di archeologia fu assunta da Ermanno Ferrero mentre a Rossi rimase l'insegnamento dell'Egittologia fino a divenire professore ordinario dal 1906 al 1909 anche la sua opera non seppe uscire però dai limiti di un'erudizione antiquaria priva dello slancio creativo qual era stato l'impegno di Fabretti nel campo antichistico non riuscendo ad aprirsi ad una nuova scienza tentativo che avvenne quando l'Egittologia italiana alla fine della lunga vita del Rossi spentosi all'inizio del 1912 stava nelle mani di Ernesto Schiaparelli a Torino e a Roma di Orazio Marucchi e dell'orientalista Ignazio Guidi ecco grazie ad Alessandro Roccati che ci ha ricostruito anche questo aspetto di Ariodante Fabretti cioè il suo interesse il suo impegno per l'Egittologia a me sembra di poter notare Alessandro se ho colto bene alcuni punti del intanto come dire l'impulso che Fabretti ha dato per la formazione di una comunità scientifica dei giovani che allora frequentavano appunto il Museo Egizio che mi sembra una cosa e poi ecco quello che tu hai accennato anche cioè che è sotto anche l'impulso delle Fabretti che comincia a sorgere un po' l'esigenza di un contatto diretto e quindi di un impulso per la ricerca sul terreno cominciano a esserci è vero? Si direbbe di sì cioè anche nelle condizioni evidentemente che non sono mai state floride da un punto di vista economico però l'opera di Fabretti si riscontra in questa frequentazione del Museo nazionale ed internazionale che appunto stava in qualche modo seminando un futuro che poi è stato travolto da altre forze e anche da altri destini che non sono stati così favorevoli diciamo che la concezione di Fabretti è totalmente consona ai suoi tempi e non poteva essere più illuminata prima che cambiassero le cose grazie ancora grazie 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 a tutti grazie a tutti